Salve salve a tutti cari amici e non, e benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Oggi, come preannunciato, parleremo del dodicesimo numero dello Zagor Più, intitolato Il Cuore di Manito. Eccolo qua, copertina carina, come sempre, di Alessandro Piccinelli, nulla da dire. Ok, ragazzi, allora, una storia completa e inedita, sapete, io preferisco molto di più lo Zagor Più rispetto a quella ciofeca e lo Zagor della serie regolare. Allora ragazzi, qua abbiamo la solita formula, ogni tre mesi, o storie, o mini storie, o quella inedita e completa. Oggi tocca al mappazzone inedito di 192 pagine. Allora ragazzi, la storia è scritta da Luca Barbieri, che alla fine, come soggettista e sceneggiatore, non mi dispiace, i disegni di Emanuele Barison, che abbiamo già visto in altri Zagor Più. Allora ragazzi, la storia si rifà, e qui già partiamo, che si rifà a un capostipite, a un capolavoro, secondo me, un romanzo. Cioè, il famosissimo Cuore di Tenebra, tra l'altro dal quale è stato preso spunto per fare il film, il capolavoro assoluto di Fancy's for Coppola, Apocalypse Now. E quindi, insomma, qua nella introduzione ci viene appunto spiegato, insomma, Barbieri ci spiega un po', quello che più o meno, diciamo così, andremo a leggere, ma a grandi linee, perché poi in realtà la storia va comunque letta, perché sennò non si capisce nulla. Allora ragazzi, che dire? La storia, appunto, ci racconta di questa vecchia conoscenza di Zagor, un lord inglese soprannominato Beow, che si è sposato con questa principessa indiana, che vive praticamente, diciamo così, nell'Oregon, dove ci sono questi... C'è questo, scopriremo poi, uomo che, insomma, si è messo a fare il capo di questi indiani, perché si mette in mezzo a questi traffici gestiti da questa compagnia, gestita da Astor, e quindi, insomma, lui fa un po', come vediamo nel film Fancy's for Coppola, come fa più o meno, diciamo così, il ruolo di Kussler, eccolo qui, che è lui, viene ricoperto, insomma, è un po' la specie, come ha fatto Marlon Brando nel film Apocalypse Now, anche se, ovviamente, sono cose diverse. Il nostro Zagor, quindi, viene chiamato, appunto, da Beow, perché, insomma, gli chiede aiuto, gli chiede aiuto anche la compagnia Astor, gli dice di andare lì, perché, insomma, ci sono questi... i traffici commerciali di questa sua... di questa sua compagnia, e sono, appunto, diciamo così, in questo territorio qui. Lui è il capo dell'Aostor, che dice a Zagor, insomma, di andare lì, perché poi c'è, tra l'altro, un altro suo... Thorne, che è un altro che fa parte di questa agenza, insomma, vuole andare qui, proprio, perché qui ci sono questi indiani che stanno facendo un po' di un casino, e quindi il commercio non sta andando bene, insomma, dove c'è anche, appunto, Beow, e quindi, insomma, Zagor va lì, ovviamente, sempre in compagnia del pancione mio, perché la parola pancione mio, in questo album, viene detta sempre, praticamente, c'è un continuo di dire Zagor, pancione mio, cioè, vabbè. Invece di dire Amore a Geni, dice pancione mio a Zagor, in continuo, ma poi c'è un continuo di pancione mio. Tra l'altro, devo dire che, come al solito, ci sono... Io, sto notando nelle gag di Cico, sempre più imbarazzo, sempre peggiori, come questa qua, i 6 di 10 pagine, insomma, ci sono diverse gag in questa storia, veramente, una più ridicola dell'altra. Si sta calando anche per quanto... Almeno, ho intanto qualche risata, ma non mai faccio più, manco più me faccio mezza risata quando vedo queste pseudo-gag. E quindi, insomma, ragazzi, lui va lì, scoprirà, appunto, che c'è Cusler, che gestisce questa... Allo scopo di riunire tutti quanti gli indiani per cacciare gli invasori bianchi, e quindi vuole mettersi al pari delle potenze, come Stati Uniti, Inghilterra, insomma, vuole... Questo piano di Cusler, che da una parte ci può stare, ma da una parte è risucchiato dal suo nuovo potere, con tutti questi indiani che sono sotto il suo comando, che appunto fanno razzie, stupo, insomma, storia, vista, rivista, rivista, che però fondamentalmente, siccome se li fa su un romanzo decente, Barbieri un po' riesce a creare un qualche cosa di discreto, ecco. Però, ragazzi, io vi sono scritto alcune cose che, secondo me, sono abbastanza... che peccano su questa storia, perché su 192 pagine abbiamo 38 pagine di azione. Di cui una scazzottata, un assalto sulla barca, perché poi c'è la famosa barca come in Apocalypse Now, che avanza sul fiume, guidata da questo capitano. Poi ci sono chiacchiere da pagina 14 a 22, da pagina 26 a 88, da 95 a 112, e da 118 a 141, sono solamente parole. E tu mi hai visto che molti mi hanno detto, eh, ma all'interno sono stato contraddetto da qualcuno, dicendo, ah, però, noi l'interno delle parole ci mettiamo anche cose che avanzano nella trama. Bene, adesso io mi sono appunto preso gli appunti, perché ci sta, su questa barca, no, che avanza per andare in questo territorio, da questo Kussler, mi sono scritto due, giusto, due stronzetti di vedere, perché magari qualcuno mi dice, tu guardi, tu guardi, ecco, ho scritto qualche indome, e appunto vedere alcune cosine, ma po' due cose, adesso tutto ne mente. E quindi ragazzi, dicevo, in questo viaggio, no, in questo viaggio della non speranza, ci sta, quello che sono le canzoni, ridono sempre, cioè, stanno sempre a ride, è una storia che è veramente cupa, come Apocalypse Now, o quale direbbe, io vedo sempre a ride, senza poi contare, ragazzi, che ci sta, una delle rappresentazioni di Zago, più tetre, più rocambolesse, più rificole mai viste, perché, ditemi se questo Zago qui, fa ride i polli, guardate davanti, è brutto, perché, l'idea, Barison è bravo a fare i volti, mi piace, ma qua ragazzi, guardate un po', questo è inguardabile, questo gli è venuto male, questo qua, secondo me, è una bozza, e poi l'ha lasciato, si è scontato di correggere, perché questo è veramente inguardabile, però, in linea di massimo, devo dire che, i volti, il tratto, ecco, il tratto di Barison, è interessante, come al solito, visto che bisogna sempre stare nella gabbia, bonigliana, le uniche parti, grandi, sono quelle, in cui sono rafficote le montagne, insomma, mai però, generazioni in formato grande, quello è vietato, da qualche, da qualche maestà, che, che vieta ai disegnatori, che fa, a parte, insomma, le classiche montagne grandi, gli altri disegni, non si possono fare, è vietato farlo, poi, quindi, tornando al discorso dei dialoghi, mi è stato detto, che la maggior parte delle volte, che si vanno, sti, 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 sti mappazzoni, perché qua, ragazzi, ci sono momenti in cui, l'albo lo vuoi tirare, perché ci sono, veramente, momenti pesanti, come ad esempio, quando il capitano di questa nave, racconta, mentre sono, sulla barca, quindi, insomma, invece di fare azione sulla barca, no, i nostri parlano, e quindi ci sono racconti del capitano, come ad esempio, ecco, vedete qua, piene dei vignettoni, in cui lui racconta, alcuni fatti della sua vita, che però non sono, non servono alla trama, perché tu vedi, leggi, leggi, poi leggi ancora, vedete, questa è tutta lettura, lui che racconta, gli racconta quello che sono avuto il serpente, cioè, tu dici, vabbè, portata a qualcosa, no, perché poi il capitano muore, e quindi tutto questo raccontare, dalla sua vita che serve, il personaggio viene fatto fuori quasi subito, quindi insomma, vedete, questo è un allungamento della pagina, perché siccome devono arrivare a 192 pagine, ci sono queste, queste chiacchiere, oppure vogliamo parlare delle famose chiacchiere intorno al fuoco, ci sono pure momenti in cui chiacchierano intorno al fuoco, ora, vediamo se riesco a trovarli, comunque ragazzi, me le sono segnate, abbiamo, almeno, solamente 38 pagine di azione su 192, il resto sono soltanto frasi, parole, e la parte interessante, diciamo, da pagina 124, come si è scritto, quando appunto viene, appunto, alla luce, il signor, Kurt Kussler, la trama un po', magari, nonostante sia solo chiacchierata, magari alcune cose, potrebbe essere interessante, ovviamente ragazzi, sempre con gli immancabili, i pignettoni, ecco qua, magari perché, ci vengono raccontate alcune cose, del d'antagonista, perché, se fai cicatrice in faccia, alcuni discorsi sulla, insomma, sempre sui stessi discorsi sul razzismo, visto, rivisto, sempre le stesse cose, no? Che, ad esempio, poi magari, vi posso citare qualche classica frase del Zagor, tipo, non esiste una parte giusta, quando si tratta di scatenare una guerra, uomo bianco è tutto one to one, insomma, frasi, trita, rietrita, riviste, riviste, buonista, non finire, sempre le stesse cose, insomma, frasi che Zagor dice puntualmente, e poi, poi c'è altri, altri gagghe dei cicli, come questa qui, sempre all'interno, desta barchetta che va, e su sta barchetta, ecco, altra, altra scena imbarazzante, dei cicli, insomma, e, in cui lui scappa, guardate un po' qua, insomma, un viaggio così pericoloso, su un, un fiume, dove, dove sulle coste, dovrebbe essere piena di indiani, come poi accade in Apocalypse Now, anche se lì sparano i Vietcong, è un po' diverso, eh, però, diciamo, il romanzo è quello, qua cambia lamentazione, e loro stanno, vedete, sempre su sta barchetta, sempre a ride, cioè, ridono sempre, e poi, a un certo punto, a pagina, mi pare per il 95, avviene, un, appunto, dopo che il capitano ci ha raccontato, no? Ci ha raccontato, insomma, riempendo le pagine, ripeto, per un non avanzamento di trama, solo per riempire le pagine, di questa cosa qui, avviene questo, questa scarica di frecciate, di, poche pagine, da, da, vi dico subito, da 88 al 95, ecco, questa qua, è la, è la scena, ovviamente scena di azione abbastanza, no, di tre pagine, scusate, ecco, questa qua, dopo tutte le chiacchiere che abbiamo visto, c'è una scarica di frecce, ecco qua, una scena di azione, e poi ritorniamo un'altra volta, con Zagl finalmente arriva, sulle, appunto, sulle, insomma, riesce ad atterrare, insomma, finalmente si incontra con Beao, che gli, che gli dà questa specie, questa pseudo trappola, per farlo arrestare, perché poi, ovviamente, lui e la moglie, all'inizio, che sembrano, insomma, ovviamente vengono soltanto presi i prigionieri, per fare come il Scazzago, per fare come il Scazzago, insomma, poi c'è uno scontro, ecco, c'è uno scontro, così vogliamo chiamarlo, qui, insomma, vabbè, una storia, che, sinceramente, inutile, ma non saprei, perché nella parte finale, fondamentalmente, qualche cosa di, di piccolo, di interessante, c'è pure, però io penso che su 192 pagine, mi fai 38 di dialoghi, 38 di azione, il resto è tutto quanto dialogato, ci sono allungamenti di brodo, perché sono doverosi, perché tu, tu, deriva a 190 pagine, quindi mi fai, loro che, molte, diverse gag di Cico, loro che parlano di, ecco, come ad esempio, tutta la scena iniziale, con lui che racconta, e le parla, 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 è così ragazzi, è un po', è una, una bellissima storia, perché magari, se qualcuno soffre un po' di insonnia, oppure, vuoi leggere qualche cosa di, che, perché dopo un po' te sarà un po' nervoso, perché tu fondamentalmente, fino a pagina 127, ovviamente poi ci sono anche dei rimandi, non vi ho detto, ci sono dei rimandi a una storia di Beau, nel personaggio degli albi 200, e passa a chi non c'ho proprio, a chi non conosco, però per fortuna non inficia, alla lettura di questo mappazzone, e vedere poi, ecco, vedere chiacchiere, vedere quante sono belli questi bei vignettoni, in cui si parla, si chiacchiera, ecco, vedere qua si parla, anche in questo caso, si chiacchiera, poi andiamo avanti, anche qua si chiacchiera, vedere poi, vignettoni abbastanza, che coprono giusto, mezza, mezza, mezza tavola, mezza tavola, come questo qua, ecco, lui è un, lavora anche lui per questa compagnia, che poi, insomma, fa un qualcosa di, vabbè, diciamo, fa una cosa nel finale, si rivela un po' infame, ecco, pure qua, vedere, in questo clima di terrore, in cui il sacro viene anche prigionato, c'è pure chi ride, come potete vedere, in questi bei, questi bei voltri rassati, dove dovrebbe esserci tutta, sta paura, qua, qua, ritono sempre, poi arrivano questi indiani, ovviamente, che, sono sotto di lui, poi c'è qualcuno, invece, che disobbedisce, tra virgolette, agli ordini di custode, quindi, magari, fa appunto, omicidi, stupillusi, in cavolo, lo prende a pugni, dopo che, fondamentalmente, lui ha fatto anche di peggio, però, vabbè, così, sarà un errore, nella sceneggiatura, non l'ho capito, la cosa bella di Paris, sono i volti, devo dire, che i volti, sono ben fatti, però, devo dire, che questa storia, è molto interessante, cioè, questa storia, può essere, è molto interessante, perché ti fa capire, come, prendere un romanzo, e farlo a fumetti, così, non dovrebbe essere fatto, ecco, questa storia, è molto utile, per far capire, come certi fumetti, che sono elogiati, prendere quei romanzi, prendere un film, e farci una storia, così, senza ritmo, che cerca, di parlare, di cose di indiani, viste, riviste, triviste, con soliti moralismi, soliti discorsi, sull'indiani, soliti discorsi, di frontiera, una trama, che, fondamentalmente, fa, del chiacchierare, di riempire, pagine, soltanto, per allungare, ed arrivare a 192 pagini, che ragazzi, ripeto, ho preso i dati, le chiacchiere sono, da 14 a 22, da 26 a 88, da 95 a 112, da 118 a 141, e poi, da 141 fino a 192, intervallato, non l'ho scritto, perché poi, la cosa interessante, avviene un po' nel finale, perché magari, entriamo un po' nella, nella, nella meccanica, della testa, di questo Cust, perché è una copia, mal fatta, di, del personaggio, di Marlon Brando, e poi, insomma, ragazzi, dicendo, ci sono appunto 38 pagine, di pseudazione, ma in realtà, l'azione sono quei frecciate, che abbiamo visto, sulla barca, due scazzottate, quando Zagor, si confronta, appunto, con Cluster, in cui ovviamente, vince, perché Zagor, vince sempre, quindi ragazzi, è uno Zagor più, che fondamentalmente, mentre lo stai leggendo, all'inizio, ti viene voglia, sicuramente, di tirarlo, perché, siccome, leggere, leggere parole, leggere cose, che, ripeto, vi ho fatto gli esempi, non ci sono avanzamenti di trama, perché un capitano, che racconta per 40 pagine, la sua storia, e poi viene fatto fuori, quindi, non serve effettivamente, alla trama, oppure vedere quello che so, la chitarra, oppure vedere, delle gag dei cibo, in cui si ride, in un momento, in cui ci dovrebbe essere, dovrebbe salire la tensione, perché tu stai cavalcando, un fiume, con degli indiani alle spalle, che ti dovrebbero attaccare, invece, questi ridono, raccontano di cose, che non, ripeto, non avanzano la trama, perché qualcuno, mi ha contraddetto, qua ci sono, storie, che il capitano, mi racconta, per 20 pagine, la sua vita, e poi me lo fai fuori, cosa, dici, eh, per affezionarti, sì, ma non è un personaggio primario, che tu poi rivedi all'interno, cioè, finisce fuori, me ne hai fatto fuori subito, quindi, come dice Faber, si allunga, perché bisogna arrivare, ai 192 pagine, io, io invece avrei preferito, magari più scontri, no, magari un bell'attacco, degli indiani, sulla nave, ma fatto bene, no, con delle frecciate, a pagina 97, da 95 a 112, poi ripeto, quando loro arrivano, sulla terra, che Zagor viene, insomma, impigionato, perché è costretto dal suo amico Beau, anche lì poi avvengono, parole, perché sono, cioè, ci sono, le pagine in cui, i nostri, si confrontano, ma non è un confrontarsi, cioè, è un po' girarci intorno, anche in questo caso, per allungare, ad arrivare, quando si allunga, non si crea una vera, una vera interessa nel lettore, e l'albo ti viene voglia di tirarlo, di prenderlo, tirarlo, perché sei frustrato, da una lettura, che non ti sta conducendo, da nessuna parte, l'unica parte, ripeto, interessante, la base è buona, ma, è realizzata, secondo me, non molto bene, perché, ripeto, non puoi fare, non puoi fare, 38 pagine di pseudo azione, ma poi, divise, cioè, una scazzottata, delle frecce, e, cioè, io ve le mostro, da 5 a 13, come saprà la storia, vedete, questa qua, è una pseudo storia d'azione, poi, da 89 a 93, me ne sono scritte apposta, cioè, quelle, appunto, ecco, dopo tutto il discorso, vedete, dopo il discorso, dopo i discorsi del capitano, arrivano queste frecciate, che durano, vedete, 4 pagine, poi, da 113 a 117, cioè, 4 pagine d'azione, cioè, vedete come le sono intervallate, ecco qua, quando il zagro, appunto, viene fatto il regioniero, eccole qua, vedete, questa, cioè, azione, ma, io dico azione, perché l'ho voluto, perché l'ho voluto menzionare, ma queste, non sono manco azione, guardate, 2, 3, e poi ricominciamo, che chiacchiere, vedete, dopo qua, poi ricominciamo, 118, vedete, l'azione, è finita, cioè, è molto scritta apposta, poi, da 142 a 146, quindi, 4 pagine d'azione, anche in questo caso, è molto scritto, cioè, azione, ma, in realtà, l'azione è un cazzotto, cioè, vedete qua, su due cazzotti, cioè, è un'azione, perché lui è prigioniero, perché lui l'ha imprigionato, perché secondo lui, ha fatto delle cose sbagliate, ma che in realtà, poi, i suoi indiani hanno pure stupato, vedete, ecco l'azione quale, Zagor, che si pesta con Kussler, 4 pagine, poi, ripeto, da 146, l'azione non c'è, però, è un po' preso, perché finalmente, viene un po' a galla, il, 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 l'idea di questo cast, perché può fare queste cose, perché ha queste intenzioni, di creare questo, questo suo esercito di indiani, per scacciare gli invasori bianchi, che sono sempre cattivi, c'è stata questa rivisitazione, che adesso, gli indiani sono sempre stati buoni, io penso che, alla fine, perché c'è stato un momento, nel corso della storia, c'è stato un momento, in cui gli indiani erano cattivissimi, ora sono diventati santi, la cattiveria, sta, sia dei bianchi, all'epoca è stata, sia degli indiani, perché pure gli indiani, facevano cose terribili, come hanno fatto pure gli bianchi, cioè, per me è la vita e mezzo, invece santificare troppo gli indiani, per me è sbagliato, cioè, è sbagliato, perché anche gli indiani, hanno fatto cose, cose terribili, sì, per colpa, perché loro, perché i bianchi, hanno la maggior parte delle colpe, questo è vero, però, da un po', da entrambe le parti, secondo me, ci sono stati dei dettagli, poi che gli indiani hanno fatto di peggio, scusate, che gli, i bianchi, noi abbiamo fatto di peggio, è fuori discussione, però, non vorrei troppo calcare, cioè, invece qua, per far capire che un discorso a volte è troppo buonista, la cattiveria maggiore è stata fatta dai bianchi, ma anche gli indiani hanno sentito i santi, diciamo così, quindi, insomma, io do la maggior parte a colpa a noi, però, un po' di colpa anche gli indiani, e quindi, insomma, ragazzi, anche qui, nella parte finale, quella è un po' più interessante, ma fondamentalmente, no? Poi certo, se devo essere un po' sincero, la parte finale è leggermente toccante, ma siccome dopo tu sei arrivato alla parte finale, in cui un po' sei, diciamo così, un po' rotto, da leggere qualche cosa che tu già hai visto, rivisto, trivisto, quadrivisto, pentavisto, ottavo visto, non ho visto, e soprattutto, ripeto, non ritmato, perché Zago dovrebbe regnare l'avventura, l'azione, 38 pagine su 192 azioni, è troppo poco, soprattutto perché poi tu rubi quelle pagine, con chiacchiere, affastona quella chitarra, cico che fa gli innesimi, imbarazzanti circhi, oppure con un capitano che ti fa 40 pagine, ti racconta la sua vita, e viene fatto fuori subito, e quindi non è inerente alla storia, perché non serve, oppure quando ci sono troppe forzature nei dialoghi, perché tu devi, invece di far parlare troppo sti personaggi, io avrei fatto, almeno 30 pagine, se non dè più, magari un bello attacco fatto bene, non ho ben 10-4 pagine di frecce, cioè, perché il soggetto, è fondamentalmente bello, ma non il soggetto di barbiari, il soggetto come il romanzo, quindi ho trovato questo fumetto, un compitino abbastanza sempliciotto da fare, facciamo parlare di personaggi, con le storie di frasi, con le storie di cliché, visti e rivisti, con poca azione, e soprattutto con un nemico, che è caratterizzato, diciamo, bene, ma perché di base hai preso, sia il film, sia il romanzo, quindi fondamentalmente questo fumetto è mediocre, una storia molto superficiale, che fa della chiacchiera, della prolissità, delle far parlare i personaggi di cose che non servono, non servono, perché le cose raccontate, a me sulla nave, o mentre stanno a far fuoco, a parlare le stronzate, non sono, e non vogliamo leggere, noi in Zagro vogliamo prevalere l'avventura, in Zagro deve prevalere l'azione, la caratterizzazione, e il raccontare cose solamente inerenti alla trama, e quando vedo personaggi che parlano su una nave le stronzate, non mi fa affezionare i personaggi, quando vedo personaggi che chiacchierano di cose loro, per poi farmi morire a due pagine dopo, sono completamente inutili, ed è questo un modo sbagliato, tecnicamente errato, di fare sceneggiatura, è così, perché le cose interessanti, sono soltanto Kussler, il suo operato, il suo volere, fare questi indiani, dei per come, e, diciamo così, è alcune parti di azioni, che sono mancanti, perché come al solito, si vuole, a tutti quanti i costi, dare risalto, non, non alla storia, ma ai personaggi che poi, non servono alla trama, cioè, quindi ragazzi, io, ripeto, il soggetto è buono, ma perché si rifà, a un libro importante, perché si rifà, a un film capolavoro, e la storia, sicuramente, pecca, di una, di una, di una prolissità, non, non, utile, alla trama, dei personaggi, caratterizzati, ma che, non è, non è servito caratterizzarli, senza poi contare, che a un certo punto, quando arrivi alle parti belli, si è un po' frustrato, no? Perché vedere tre pagine, vedere 38 pagine, suddivise in questo modo sbagliato, in cui ci sono, delle scene imbarazzanti con Cico, dalle quali si possono fare a meno, e tu preferisci, inserire questo, piuttosto che, che una bella, un bel attacco indiano, con delle botte, delle cose, che avrebbero dato più ritmo, per poi portarmi al finale, magari scritto così, perché magari, se mi fai il finale, di 40 pagine, tutto parlato, ma però, che mi va, come, perché il finale a me è piaciuto, la parte finale è interessante, però tu ci arrivi, con questi allungamenti di brodo, che gli autori dicono a me, che non è vero, ma che poi, io con questi video, analizzando precisamente, le tavole, le pagine, vi dico, che loro lo fanno apposta, loro allungano i brodi, perché, o non sono in grado, secondo Faber, di, di creare più azione, o non gli va, perché fondamentalmente, preferiscono, come al solito, come, come molte volte accade, dal risalto, al chiacchiericcio, ecco, il chiacchiericcio, in un fumetto d'azione, un chiacchiericcio, che non porta a niente, rompe le palle, e soprattutto, fa venire al lettore, una noia, nonostante, il soggetto, sia buono, quindi ragazzi, sta a voi, sta a voi, io, non saprei, se consigliarvelo, o no, vi posso soltanto dire, che, come ho già detto, ci sono almeno, più di 120 pagine, di chiacchiere, 38 sono di pseudo azione, e il resto, sì, è di caratterizzazione, però, la cosa bella, è quella che viene caratterizzato, Kostler, e poi, ripeto, Thorne, che non ne ho parlato di Thorne, perché è un personaggio chiave, che fa delle cose, nelle finale, che poi, se ve le racconto, potrei spoilerarvelo, quindi ragazzi, siamo di fronte, all'ennesima bonellata, cioè, chiacchiere su chiacchiere, con prolessità, con dialoghi, che non servono, non me dite che servono, perché vi ho fatto gli esempi, un capitano, che per 40 pagine parla, poi viene fatto fuori, tutte queste risate, che, invece, in un clima, che dovrebbe essere teso, cioè, smorsano male, i dialoghi rovinano, le risate smorsano, la parte bella, è solamente il finale, ripeto però, senza una vera azione, visto che tu ti rifai, Apocalypse Now, che lì, c'è l'azione, si sparano a non finire, e qua ragazzi, ci sono delle gravissime, problemate, tecniche, perché io, ho fatto un'analisi tecnica, dell'albo, e quindi ragazzi, poi, fatelo a voi, se vi piace, sono contento, ma, queste grave, queste gravi, cose tecniche, ci sono, le vedo, si leggono, le ho scritte, quindi, quindi ragazzi, fatemi sapere voi, se questa pseudo, ciò feca, vi piace, i gusti, sono gusti, per me, è un 5, 5 e mezzo, potrei, ecco, potrei usare 5 e mezzo, perché alcuni, di Bari, sono mi piace, ma la storia in sé, per come, dove, poteva essere, sicuramente, avrebbe potuto, potrebbe essere, potrebbe, sarebbe potuto essere, anche un 7, o anche un 7 e mezzo, vorrei esagerare con l'8, perché la parte finale, è molto interessante, ma tu arrivi alla parte finale, dopo 140 pagine, di chiacchiere, e di, ripeto ragazzi, questo, è quello là, ce l'ho scritto proprio, guardate, ho fatto il conto, ho scritto le chiacchiere, ho scritto, cioè, quindi ragazzi, ho fatto una, precisa, proprio perché, c'è chi, c'è chi, c'è chi ossa smentirmi, ma io, davanti a questo, me lo sono scritto apposta, quindi ragazzi, poi per carità, a gusti, voi potete dire, capolavoro però, davanti, io faccio un'analisi tecnica, non parlo di gusti, a vostro gusto, può essere capolavoro, ma, questa, queste cose oggettive, oggettivamente non lo può essere, a gusti può essere un capolavoro, per tutti quanti, però voi dovete fare un'analisi tecnica, cioè, come ho fatto io, cioè, la dovete fare, perché qua ragazzi, un capitano che per 20 pagine, mi racconta il suo passato, e poi ho fatto morire subito, non serve, non serve, cioè, ci sono delle cose, che non, che non sono state fatte bene, secondo me, classico, compito nello zagoriano, che si porta a casa, una storia, come al solito, mediocre, non da buttare, ma sicuramente, fra un anno, non ve la ricorderete, e sicuramente, se ne può fare, a meno, se ne dicevi, il zagor, magari vi potrebbe interessare, ma per la parte finale, per il resto, non lo so, non lo so ragazzi, non mi sento dibocciare, dibocciare totalmente, però, ho voluto, dirvi, quali sono le gravissime, pecche, di un fumetto, che si rifà, a un romanzo, e un film, che sono capolavori, assoluti, ragazzi, qua sotto, nei commenti, vi aspetto. Grazie a tutti.